L'architetto Gizzi è entrato nella fase operativa l'accordo tra Federlegno Arredo e Federcasa che è stato siglato nel mese di giugno e a ottobre partiranno i primi corsi rivolti agli associati Federcasa per prendere coscienza, per conoscere nel merito le caratteristiche delle costruzioni in legno. Per quale motivo un associato Federcasa dovrebbe prendere parte a questi corsi, quali sono le opportunità? Sì, nel protocollo, sottoscritto il mese di giugno, l'attuazione del protocollo partirà proprio il mese di ottobre con i corsi prevediamo di poter fornire agli associati a Federcasa degli strumenti utili per il loro lavoro, soprattutto ai tecnici. Il sistema delle riviste di esigenza repubblica nel nostro paese ha avuto un grosso pregio di creare e favorire la professionalità di tecnici in un settore davvero unico, soprattutto la flessibilità di questi nostri tecnici e in senso generale di tutti i dipendenti delle dissidenze repubbliche. Abbiamo capacità e professionalità molto spiccate, elevate e anche flessibili. La flessibilità la individuiamo attraverso nuove ulteriori forme di intervento sulle dissidenze repubbliche. D'altronde gli organi di Federcasa hanno raccolto con molti interessi una prospettiva di poter dare alloggi a costi contenuti e in tempi molto brevi. Le esperienze che molte parti del nostro territorio vengono portate avanti in questa direzione confermano che è possibile costruire in alternativa sia per i tempi e sia per i costi per dare poi dei prodotti che siano dei prodotti molto utili e vantaggiosi sotto il profilo dell'abitare. Quindi ci preoccupiamo proprio sotto il profilo organizzativo come federazione attuativo di una volontà espressa lo scorso mese di giugno di fornire questi strumenti ai nostri associati proprio perché possano tramite i corsi di formazione approfondire gli aspetti tecnici per realizzare abitazioni in legno. È necessario che si completi l'iter formativo di tutti i tecnici degli enti associati e possano vedere quali siano le caratteristiche e le peculiarità di una progettazione in legno e quindi anche in questa direzione far esprimere a tutti loro la migliore professionalità che sicuramente ne verrà fuori. Quindi verranno a conoscenza di case in legno, case veloci da costruire ma anche sicure sicure grazie alle caratteristiche antisismiche delle costruzioni e anche alla resistenza al fuoco. Sì, in effetti noi viviamo in una penisola che non sta molto ferma e quindi dovremo prendere coscienza di avere una sicurezza generale così come lo danno le strutture tradizionali progettate e costruite nel migliore dei modi, avere ulteriori offerte sul mercato, su strutture che possano veramente rispondere in termini di sicurezza ad ogni evento sismico e così come dare una risposta forte sia sotto il profilo energetico che sotto il profilo di contenimenti o meglio di risposta al fuoco e alla sicurezza del fabbricato e dell'alloggio. Ci preoccupiamo molto per la sicurezza perché sappiamo che una costruzione, un alloggio è ben realizzato, può fornire ottimi gradi di sicurezza per gli assegnatari che poi dovranno abitarlo. Certamente. Per quanto riguarda queste abitazioni è stato sottolineato il fatto che sono appunto veloci da costruire ma sono anche belle, grazie al legno e grazie alle sue peculiarità estetiche. potrebbe giocare un ruolo a favore? Ormai l'edilizia di Residenza Repubblica ha disegnato le nostre città. Dal dopoguerra e quindi dalla seconda metà del secolo scorso lo sviluppo urbanistico delle nostre città è stato disegnato dall'edilizia di Residenza Repubblica. I famosi piani con la 167 sono stati realizzati in numerosi quartieri e soprattutto è stata data un'impronta che in molte parti è veramente pregevole e ha dato degli ottimi risultati. Sappiamo che il legno può rispondere molto bene sotto il profilo estetico e sotto il profilo di un'architettura che possa dare pregio e valore alle zone dove viene realizzata e soprattutto risponde anche in termini di rapporto fra l'abitazione e l'utente, il cittadino perché d'altronde regno è un prodotto naturale e quindi non può che essere così e quindi non può che offrire delle ottime risposte a chi abita in un'abitazione, in un alloggio costruito in legno.